Breve video per spiegare come fare un redstone che faccia pulsare come vedete qui ci sono dei pistoni che stanno sollevando ogni tanto delle cose rosse quindi potrebbe essere l'ideale per costruire un cuore pulsante tutta l'apparecchiatura l'ho messa qua dentro quindi qua sotto adesso è nascosto quindi andiamo a vedere come funziona vedete tra parentesi che abbiamo messo al momento abbiamo della polvere di redstone e questi ripetitori i ripetitori sono essenziali ho visto per riuscire a produrre dato un segnale che vedete che è alternato e il fatto di produrre simmetricamente triplicando l'uscita di qua se al posto di questi ripetitori avessi messo della semplice polvere non sarei riuscito a ottenere cioè uno si ma due vedete che non si non riuscirei a produrre questo effetto quindi un segnale che mi arriva qua non riesce a essere propagato quindi prendiamo i nuovi nostri ripetitori e li mettiamo quindi togliamo, togliamo, togliamo e mettiamo il nostro ripetitore ripetitore, ripetitore ora questi ripetitori tra parentesi vedete che sono quando arriva il segnale si accendono e passano il segnale in realtà se andiamo a scoperchiare la nostra macchina vediamo come funziona e alla fine funziona sempre con i ripetitori quindi andiamo un po' a vedere il principio di funzionamento il principio di funzionamento è semplicemente tre ripetitori messi in una direzione vedete di qua e poi quindi che lasciano passare vedete che la corrente arriva e viene trasferita lì e poi viene trasferita qua questi ripetitori in realtà sono quindi cominciamo magari rifacciamolo da zero così vedete esattamente il concetto ok allora quindi l'idea qui è di fare tre ripetitori uno dietro l'altro quindi ci mettiamo nella direzione in cui vogliamo far fruire la corrente un pochino indietro tac ripetitore uno due tre ecco poi il trucchetto è di cliccare e di mettergli alla massima al massimo ritardo ok perché se no trasmetterebbe la corrente troppo in fretta e non si riuscirebbe a produrre l'effetto desiderato facciamo la stessa cosa nell'altra direzione ok quindi a questo punto il circuito c'è però è spento quindi per dargli energia occorre prendere una redstone questa l'accendiamo qua e poi la buttiamo via subito dopo averla messa perché serve solo per innescare il sistema a questo punto vedete che ok vedete che praticamente questo fa un contatore che fa circa ogni 2-3 secondi per farlo un pochino più veloce si può ridurre l'intervallo di tempo di questi quindi ad esempio se noi qua tasto destro vedete che abbiamo ridotto l'intervallo di questo e quindi è più veloce se lo facciamo anche su questo è ancora un pochino più veloce e anche questo è ancora più veloce più veloce di così non si può andare per il semplice motivo che vedete che qui già praticamente l'importante è che ci sia un momento di di tempo in cui rimane spento o acceso per come è fatto il circuito adesso per riuscire a renderlo leggermente più veloce bisognerebbe forse allungarlo un po' in modo tale da dare la possibilità di se ne facciamo così interrompiamo mettiamo qua ok e magari cerchiamo di farlo anche un pochino però non credo che riusciamo ad andare più più veloci di quanto abbiamo visto prima perché o mettiamo un altro ritardo che però se mettiamo un ritardo ovviamente torniamo al problema originario quindi se lo facciamo così ad esempio e gli mettiamo la torcia e poi ci ricordiamoci di spegnerla ecco vedete che non l'ho spenta sufficientemente in fretta e quindi bisogna spegnere tutto aspetta spegniamo qua e poi quindi rimettiamo e qui gli mettiamo la torcia facciamo clic clac ok a questo punto vedete che effettivamente ce l'abbiamo fatta quindi qui bisogna essere abbastanza lesti a togliere la sorgente in modo da evitare che rimanga sempre accesa per mettere i pistoni quindi la prima parte è stata quella di generare un circuito elettrico funzionante quindi magari ok rifacciamolo come l'abbiamo fatto all'inizio poi una volta che avete fatto il circuito elettrico funzionante che fa il suo mestiere abbiamo messo questi signori qua e poi c'è il problema di mettere questi pistoni i pistoni dunque vediamo un po' tac togliamo ok togliamo i pistoni e proviamo a rifare da capo il mestiere quindi qui dobbiamo mettere il pistone il pistone dobbiamo orientarlo quindi abbiamo il pistone dobbiamo usare quello appiccicoso sticky piston che probabilmente in versione italiana si chiama comunque lo riconoscete fra i pistoni perché è quello dico questo colore verde mentre invece l'altro pistone se io cerco piston vedete che ce n'è uno verde e ce n'è uno invece color legno quindi dobbiamo prendere quello verde ok quindi quello verde se lo mettiamo da qua dunque funzionerebbe ma aspetta dobbiamo mettere in la direzione in cui vogliamo quindi lo mettiamo qua ecco vedete la direzione in cui lo mettiamo lui spinge in questa direzione se noi volessimo che spingesse invece in un'altra direzione dovremmo metterlo partendo da qua e vedete che lui spinge in quella direzione se noi vogliamo che spinga verso l'alto dobbiamo puntarlo dall'alto quindi siamo dall'alto e a questo punto quando lo mettiamo vedete che spinge in su che era quello che volevamo quindi mettiamo sempre dall'alto il secondo pistone e il terzo pistone e poi sopra ci mettiamo la lana rossa uno due tre e abbiamo ottenuto praticamente questo effetto di funzionamento che è quello che ci interessava ottenere è tutto per questo video grazie grazie a tutti grazie a tutti